Roma Sposa 2019 è partito dal 31 gennaio 2019 fino al 3, quindi fino a ieri, presso la nuvola dell'Euro. Più di 300 le aziende, più di 1000 abiti in passerella, il classico quindi va a cedere il passo alla piena personalizzazione e la fantasia. Si fa regola in ogni minimo dettaglio, dall'allestimento fino ad arrivare a qualcosa di più innovativo. Insomma è stato un evento importante quello che ha visto protagonista Roma Sposa 2019 all'Euro di Roma, questa prestigiosa zona che è famosa e rinomata oltre che per la bellezza dei suoi parchi anche per la grande quantità di monumenti di pregio, di prestigio come il fungo, come il piazzale dell'industria dove ci sono costruzioni in marmo bianco, se non erro di Carrara. Complimenti dunque a Roma Sposa, l'evento che c'è stato è terminato ieri 3 febbraio 2019 all'Euro di Roma. Iscrivetevi, commentate, al prossimo video da Narratori Italiani.